Arriva a Napoli, alla mostra d'oltremare, dal 25 all'8 febbraio, lo spettacolo internazionale e magnifico acquatico prodotto dai fratelli Zoppis, uno show innovativo ambientato nel mondo marino che in tre anni ha registrato oltre 2 milioni di spettatori in 8 nazioni europee. In un acquario circolare con oltre 50.000 litri d'acqua si alternano le esibizioni di acrobati, giocolieri, clown e moto d'acqua per raccontare una storia a sfondo sociale sul rispetto del mare e dell'ambiente. Il nostro spettacolo è basato su una storia, che è la storia di un marinaio che cade accidentalmente nel fondo marino e lì gli capitano una serie di avventure e comincia a incontrare tutti i personaggi che vivono normalmente nel fondo marino e come facciamo tutti quanti noi quando andiamo a vedere dei posti nuovi e diversi e cerchiamo di toccare tutto. Magnifico acquatico frutto di una produzione italo-spagnola è la risposta europea al Cirque du Soleil. Tra giochi d'acqua ed effetti speciali, piramidi umane e sirene contorsioniste sono oltre 15 le attrazioni di alto livello tecnico e 50 gli artisti che con l'originalità delle loro prestazioni danno vita ad uno spettacolo di sano divertimento. È uno spettacolo prettamente per tutta la famiglia. Abbiamo creato qualcosa che piace ai bambini che vanno dai 5 anni fino ai 90 anni. Grazie alla sinergia degli organizzatori con l'amministrazione comunale, alcuni ragazzi ospiti delle associazioni attive nel terzo settore avranno la possibilità di assistere allo spettacolo inaugurale la sera di Natale. Grazie al Comune di Napoli la notte di Natale, il 25 dicembre che è la prima di questo spettacolo, le realtà che operano in città per i bambini e per il miglioramento della nostra stessa città saranno ospiti d'onore della prima di questo spettacolo. Ci è piaciuto quindi invertire quel concetto del VIP, il Very Important People, in realtà è a Napoli chi lavora per i più deboli e chi fa cose per il miglioramento del nostro territorio. Grazie a tutti.